Io vorrei fare auguri a tutti, l'amministrazione comunale in primo luogo che possa uscire da questa situazione abbastanza difficile in cui si trova, speriamo soprattutto per la città. Voglio augurare a tutte le asozioni sportive che purtroppo ancora oggi, ancora di più dovranno sudare e lottare per poter portare avanti le loro attività, anche perché i contributi non ce ne sono e c'è solo volontariato, speriamo che almeno il volontariato non venga colpito e comunque la gente continua a crederci. Ringrazio anche voi di Telenord perché comunque è dato importanza a tutto questo sport che magari anni indietro non era così valorizzato, però con le vostre trasmissioni riuscite anche a far capire che è anche uno sport vero questo delle bocce. E poi agli sponsor? E beh, gli sponsor, quegli sponsor che ci aiutano e continuano ad aiutarci, non faccio nomi perché comunque devo dire che dove vado trovo sempre le porte aperte, piccole porte, piccole porte ma aperte, per me è molto importante, anche perché io preferisco avere 100 che mi danno 1000 lire, 1 euro, che uno che me ne dà 100 che poi eventualmente me ne fa pesare. E' stato un buon 2011, i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo avuto dei bei successi e delle afformazioni sia come atleti sia come società in ambito nazionale nei campionati del mondo. Ricordo appunto nei campionati del mondo che Giuseppe Alberti, che viene dalla Canottieri, ha vinto in singolo la cazzegoria assoluta. Quindi diciamo che siamo contenti, soprattutto per un motivo, che siccome questo è un anno orribilis, fare dello sport, fare le gare, seguire delle regole, vedere delle competizioni, una voglia di vincere e vedere soprattutto i ragazzi che si entusiasmano, vuol dire che la vita continua. Sembra che il mondo degli adulti invece abbia altre regole e abbia una tristezza di fondo. Togliamoci la tristezza degli adulti, pigliamo l'allegria dei giovani, auguri a tutti. Ecco, ma tu ti senti più adulto e più giovane in questo ambito, in questo frangente? Quando sono in ufficio diventa adulto e triste, quando venga la Canottieri sono contento e allegro e mi sento giovane. Ecco, allora io immagino che il tuo regalo di Natale sotto l'albero, per quello che riguarda, diciamo, per il 2012, il tuo augurio non possa essere che? Studiamo, combattiamo e cerchiamo di vincere. Gli auguri a tutti i nostri sostenitori, ai nostri sponsor che con grande passione anche loro ci danno fiducia e ci sostengono e auguri anche a lei e al suo staff perché ha dimostrato molta simpatia nei nostri confronti e quindi anche a voi di Telenor di i nostri migliori auguri. Auguri!